E' dedicata la lotta alla Camorra e alla sicurezza urbana la seduta monotematica di Consiglio Comunale riunita questa mattina nella Sala dei Baroni. Io do particolare importanza all'accordo che è stato firmato dal Ministro dell'Interno, dal Sindaco e dal Presidente della Regione sulla sicurezza integrata e partecipata. Si sta progettando l'implementazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree delle municipalità che ne sono carenti. Quartieri che sono periferiali e le periferie che sono tagliati fuori dal circuito urbano e lì bisogna intervenire soprattutto che fuori del PNRR, creando quelle strutture e rigenerando territori in difficoltà. Però io penso che anche fisicamente dare opportunità lavorative, di formazione a quei cittadini che vivono difficoltà sociali, culturali e economiche. È evidente che la città soffre da troppo tempo una mancanza di ordine, di disciplina, di regole, anche basilari. Purtroppo siamo la città della carta sporca, siamo la città della doppia fila, siamo la città della mancanza di rispetto assoluto di quelle che sono anche le norme ordinarie. Dobbiamo ripartire da qui. E all'indomani della firma del patto per Napoli, che ha visto in città il premier Mario Draghi, il sindaco Gaetano Manfredi ha ribadito l'importanza di vigilare affinché non ci siano infiltrazioni nelle attività di spesa del PNRR. Ci sono finanziamenti importanti, quindi è necessario che ci sia un'attenzione particolare per evitare che ci sia un'infiltrazione della camorra, sia nell'aggiudicazione dei lavori che poi nello svolgimento. Noi in questo stiamo discutendo con la prefettura, venerdì ci sarà anche il ministro degli interni a Napoli con cui ci stiamo confrontando. È molto importante che questo organismo e queste procedure vengano subito messe in campo, proprio perché tra poco partiremo con le gare, perché si stanno completando le progettazioni. Questa è una grande criticità, non ci possiamo permettere nessun rischio di infiltrazione, però per far questo abbiamo bisogno di strumenti straordinari, proprio perché poi è anche difficile in alcuni casi riuscire a discriminare le imprese sane da quelle che possono essere teoricamente infiltrate. Quindi su questo noi non abbiamo degli strumenti efficaci, se non un'azione di coordinamento forte che deve essere messa in campo da prefettura e ministro degli interni.